Recentemente mi sono imbattuto nel peggior commento che uno youtuber possa ricevere, e non riesco a smettere di pensarci. Ormai vive lì nella mia testa ragazzi, e sarebbe il caso che mi pagasse l'affitto. Il commento riguardava la frequenza con cui caricavo i video, e diceva del tipo «Se gli studi anime possano realizzare un video a settimana, tu sicuramente potrai realizzare un video al mese quantomeno». E in quel momento ho pensato «Pensi che funzioni così? Pensi che gli studi di anime pubblichino un episodio e dicano…» «Bene, ho l'ora di fare il prossimo episodio questa settimana, spero che ne sono di voglia per proglarmi». So che le condizioni di lavoro in Giappone sono difficili, ma por c***o voglia, immagino che tutti gli animatori si rilassino tra una stagione e l'altra, no? E continuando a pensarci mi sono reso conto che non potevo prendermela poi troppo. Questa persona è chiaramente ignorante riguardo all'animazione, e probabilmente è un minorenne. Perciò ho pensato, ho una buona conoscenza di ciò che avviene dietro le quinte dell'animazione. Perché non parlare della propria esperienza come artista e cercare di istruire le persone allora? Così non arrivano più commenti rispettosi! Tenete presente che quando dico artista faccio riferimento a quel che leggo su Google, ovvero una persona che produce dipinti o disegni come professioni o passatempo. Esattamente, quelli che si esprimono con carta e penna. Non parlo di quelli che fanno musica, torte di compleanno o scattano foto in bianco e nero dei tramonti. Stiamo parlando di cartoni animati, io faccio cartoni. Adesso è ovvio che io sia a favore degli artisti, anche se non sono proprio uno di loro. Non prendetemi in giro, non ho le skill adatte e non so neanche disegnare le dita. Però supporto chiunque voglia fare arte, sia come hobby che come lavoro. Ma se pensi di farne un lavoro a tempo pieno, mia cara, allora siediti e facciamo un paio di considerazioni. Sei davvero così sicura che non vuoi andare a studiare legge? Come tutti quanti, anche gli artisti devono mangiare. Per vivere, almeno. E purtroppo in questa società capitalista il cibo si compra. Perciò gli artisti devono trovare un modo per trasformare la loro abilità in denaro. Ci sono quattro modi per un artista di fare soldi. Primo, se sei bravo in ciò che fai, la gente compra le tue opere per appenderle al muro di casa. Secondo, fai ritratti divertenti in spiaggia e li vendi ai turisti. Terzo, vendi il plasma, non mi chiedere come. E ultimo, il modo più comune, fai disegni su richiesta e ti fai pagare. Comunque senza abbandonare la terza opzione. Alcuni invece si fanno pagare su commissione. L'artista fa tipo, disegnerò quel che vuoi, asterix a 100 euro. E la gente risponderà, ma che caccia, l'arte dovrebbe essere gratuita. Ti avrei dato tanta visibilità, ho 50 follower io su Twitter, capito? Oppure vi chiederanno Un'ultima possibilità, un po' più da stipendio fisso. E trovare il lavoro presso uno studio, o farlo per uno YouTuber. Ehi, ti paghiamo se ci disegni quello che vogliamo noi. D'accordo. Ma se non ti piace... Ti diciamo cosa cambiare e vediamo cosa migliorare assieme. Ok? Oppure muori! Ma passiamo all'animazione. Una cosa importante da ricordare è che disegno è uguale a tempo più soldi. Esattamente quanto tempo? Beh, rispondo alla domanda che ci ha portati a questo video. E no, uno studio di animazione non fa un episodio a settimana. Credo. Non chiedetemi come sia possibile che South Park ci riesca. Credetemi, è impressionante come cosa. Io ci metto mesi a cercare di capire solo di cosa voglio parlare. Fare un singolo episodio di un cartone animato da zero richiede circa... Due anni? Non ci credi? Bene, vediamo cosa da dire Iacco degli Animaniacs riguardo al primo episodio del 2020. Innanzitutto ricordo benissimo che Trump era ancora il presidente. Vedete, gli sceneggiatori hanno iniziato a lavorarci nel 2018. Ma questo non significa che ci abbiano messo 26 anni per fare la prima stagione. Ci sono molte parti in movimento che si creano quando si produce una serie tv animata. Per cominciare, l'intera stagione viene realizzata contemporaneamente. Mentre gli sceneggiatori scrivono l'episodio 12, il team delle storyboard sta lavorando al terzo. E il team di design sta creando le scarpe da bowling che verranno indossate nell'episodio 6. C'è poi qualcuno che si occupa esclusivamente di fare in modo che tutti stiano facendo il loro lavoro. Parliamo di Animation Pipeline. E ci sono così tanti altri aspetti in quest'ambito che potrei fare un altro video su questa parte del processo. Lasciate un like se lo vorreste. Sappiate perciò che ci vogliono circa due anni per fare una stagione di una serie animata. Quindi è per questo che quando gli show citano i meme sono vecchi come mia nonna. Tipo like BOSS! È bellissima, non trovate? Questa vista notturna della città. Uno dei miei artisti, Annie Loomis, ha impiegato ben sette ore per disegnarla. Vi sembra assurdo? Guardate. Guardate un po'. Osservate come si muovono questi gatti così... Inverosimili. Sono solo quattro secondi di clip. Ben sette ore di lavoro per quattro secondi di contenuto. Quindi prima di andare avanti voglio che ci fermiamo e apprezziamo ancora una volta questo sfondo per altri quattro secondi così che voi stronzi possiate apprezzarlo a dovere. Creare dei background richiede molto tempo e la loro funzione principale è quella di essere messa sullo sfondo, non l'elemento principale della scena. Quindi nella fase di storyboard vengono abbozzate le posizioni dei personaggi e le loro espressioni. Durante questa fase cerco di trovare modi per riutilizzare gli elementi esistenti o di creare nuovi sfondi unendoli ad altri precedentemente creati. Tutto chiaro? Vi faccio un esempio pratico. Posso prendere i grattacieli da uno sfondo, i cespugli da un altro e la panchina da un altro ancora per creare uno sfondo originale. Ma sperando che voi non lo notiate. Ma sono forse tirchio o sto cercando di accorciare i tempi? Assolutamente! Ma ecco il punto. Questo da un altro artista ha più tempo per fare altro. Come questa skyline fatta il mio onore, invece di dover disegnare 20 sfondi diversi di una camera da letto perché abbiamo già una camera da letto, facciamo qualcos'altro per favore. Non è pigrizia, è fare in modo che ogni sforzo sia valorizzato al massimo. Per non parlare di quei post che vedo spuntare su Twitter ogni mese, mi fanno venire voglia di calarmi gli occhi. Se guardate questa scena di Il libro della giungla e questa scena di Winnie the Pooh, questi due ragazzi dalle stesse proporzioni si muovono in modo incredibilmente simile. Eh? Cosa? Quindi è stato plagiato? Qualcuno di Winnie the Pooh ha plagiato il libro della giungla! Ma levati, ricordate la formula disegno uguale a tempo più denaro? Nel passato dell'animazione, prima dei moderni dispositivi grafici e dei floppy disk, le immagini animate dovevano essere dipinte su foli trasparenti, chiamati celle. I cartoni animati erano essenzialmente dei lunghissimi libri, composti da oltre 100.000 pagine dipinte a mano. In quel periodo i disegni richiedevano ancora più tempo e denaro. Questa intera sequenza doveva essere disegnata 24 volte al secondo e avere un timing perfetto per sembrare che un bambino stesse saltando su delle rocce. Solo per chi hanno disegnato 24 pezze di rocce non significa che il risultato sarà quello giusto quando verranno riprodotti i fotogrammi assieme. Quindi, se stai creando un cartone animato degli anni 70 e hai bisogno di una scena in cui un ragazzo sta lanciando delle pietre in acqua, oppure una scena di combattimento, Spenderai tempo e denaro per disegnare un altro ragazzo che lancia un'altra pietra quando qualcun altro l'ha già fatto dieci anni fa? Eh? Non credo. O utilizzerai l'animazione che lo studio ha già realizzato e avrai così più tempo e budget per creare una scena di combattimento ancora più epica? Fossero due studi differenti, allora sì, sarebbe un'altra cosa. Ma Disney possiede i diritti di questo movimento di Mowgli, quindi hanno potuto tranquillamente utilizzarlo su Chris. Trasformare l'arte in un lavoro a tempo pieno è molto difficile, sono estremamente fortunato ad avere questa opportunità, però anche a poter contare su un team incredibile di artisti super talentuosi che mi aiutano a creare questi cartoni animati e a condividerli con voi. E grazie al vostro supporto posso reinvestire denaro nel team e produrre contenuti di qualità sempre migliori e supportare più artisti ovviamente. È un vantaggio per tutti. Quindi se hai mai voluto entrare nell'industria dell'arte, auguroni, mettiti a disegnare e inizia a costruire il tuo portfolio, ragazzo. Spero che tu abbia apprezzato il video e che abbia imparato qualcosa in più sul retroscena dei cartoni animati. Ringrazio di cuore tutto il team che ha reso possibile la realizzazione di questo video e stammi bene Michelangelo. Ringrazio di cuore tutto il team è un grosso coraco. Grazie.